Partecipa al premio Studio in Puglia perché se ti sei diplomato o laureato alla triennale con il massimo dei voti e deciso di proseguire i tuoi studi in Puglia è il momento di esprimere la tua creatività. Scatta una foto, scrivi una poesia o un racconto, gira un video sul perché hai scelto l'alta formazione pugliese per rendere la nostra regione più verde, più connessa, più sociale, più intelligente. Puoi vincere fino a 2000 euro. Inviaci la tua candidatura entro il 22 aprile su studioinpugliaperchè.regione.puglia.it è un'iniziativa di Regione Puglia e Arti.